Pupa ha visto un altro cane un attimo, guarda da qui, è una monella, è una monella, a posto, a posto, Pupa sei tranquilla però, è una monella, poi è stato un piacere e spero di vederti chissà tre, perché io vengo da Rimini, non sono di Roma, vengo da Rimini dove c'è il mare, un po' di leggeresse, siamo tipi isolari, anche qua c'è il mare, però un po' più lontano, io abito a 500 metri dal mare, 500, poi è stato un piacere, hai il mio Instagram, se dopo ci vuoi rivedere, mi mandi un messaggio e io, ok, oh è molto bellina, timida, mi piace, carina, oh è buona serata, occhio però, occhio però, è molto bella, ok, ragazzi non è timida solo che c'è la telecamera, è la situazione, è un po' la telecamera, ho capito, oh io rimango qua fino a lunedì, se nel caso mi vuoi rivedere, ci mettiamo d'accordo su Instagram senza telecamera, senza, cioè rimango qua fino a domenica sera, poi parto lunedì, ci sentiamo su Instagram senza telecamera, senza, la prossima volta se vuoi vedermi non la porto, va bene? Perché non siete gay Cosa? Andiamo via No vabbè, no vabbè No vabbè No vabbè No vabbè Scusa, scusa, aspetta, secondo te siamo gay? Andiamo via, dopo di questo mi rivedo, ciao Buona serata Ciao Buona serata Ciao A me non si può dire No vabbè No vabbè No vabbè No Pupa, questa è Pupa che fa No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè Vabbè E poi mi dicono, perché non esci con Pupa? Padre, è la pochetta, è la pochetta È la pochetta tua È Pupa Vabbè, stasera non ti ne moro che un cazzo Ok